magi ciao ragazzi e benvenuti in un altro video di giochi brutti e questo mi dispiace farlo perché è un gioco di digipen che come vedete nei miei video io spesso spesso gioco i loro giochi però questo veramente lo faccio perché è una serie di giochi che mi dà fastidio è un tipo di giochi questi sono giochi punto e clic ma neanche sono giochi clic e basta allora qua abbiamo musica e suoni vabbè i credits non vado neanche a vedere comunque vediamo questo start instruction ok è un clic e basta praticamente sono quei giochi che vi fanno cliccare appunto e la gente ci si mette lì come i giochi per smartphone no lo sapete come sono quei giochi allora cosa dovete fare qui praticamente è una storia vi dice una storia getting ahead for ourselves are we dobbiamo andare avanti se io clicco questo rosso non va bene devo continuare a cliccare questo qui questo blu questo blu vedete no come sto facendo veramente un bellissimo gioco che mi sta veramente sgasando 100 volte siamo arrivati bla 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 vedo nei commenti di steam che la gente mi piace no adesso possiamo gradere ok adesso vedete come ogni click 5 quindi siamo a 120 volt ogni volta qui dovremmo stare a legge proprio questo non è un gioco secondo me questo è solo un cliccare è solo una storia perché adesso i videogiochi stanno diventando un po come storie no ma niente andiamo un po avanti è tutto così comunque è tutto così gioco è questo per me è un gioco veramente brutto molto semplice cene commenti a bello bello ma non sapete quasi il 100 per cento è cosa è successo come quasi il 100 per cento dei commenti è positivo anche in italiano lo metto positivo guardate qua cioè io sto continuando a cliccare 750 volte adesso magari ci arriviamo a mille ma chi è che c'ha voglia di legge piuttosto mi prendo un testo e lo leggo cioè voglio dire cos'è questo instruction ok arriviamo vediamo se riusciamo ad arrivare a mille volte prima che mi blocca tutto quello forse è il pagamento per gli upgrade penso proprio di sì ok ormai siamo quasi arrivati a questo mille mille non più mille si direi però ok è successo ok abbiamo fatto uno solo un clic e ma ok mille volte ci abbiamo fatto di power un altro step per arrivare al risultato un altro passo non lo so non lo so poi poi da quello che ho capito vi faccio anche lo spoiler sinceramente non si sa non si può neanche vedere poi aggiungono altre cose non lo so guardate vedete voi se voi vi piace questo gioco allora non siete persone siete solamente dei cursori non siete